Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Correnti molto umide per Capodanno apportano parecchia nuvolosità in Liguria, con deboli precipitazioni non escluse. Diamo subito uno sguardo infatti nel dettaglio alla situazione attesa sull'imperiese, giornata molto nuvolosa con deboli piovigini in mattinata che poi localmente si ripresenteranno verso le ore serali. Situazione praticamente analoga anche sul Savonese, deboli piovigini non escluse principalmente nella prima parte del giorno e la situazione sarà praticamente analoga anche su Genova ed intorni. La giornata sarà grigia con deboli piovigini al mattino e poi nuovamente in serata. Diamo uno sguardo alla situazione attesa anche sul Tiguglio, transiterà parecchia nuvolosità con deboli piovigini al mattino, poi pausa asciutta nelle ore pomeridiane. Qualche debole isolato piovasco tornerà poi a ripresentarsi in serata. E infine sullo spezzino deboli piovigini al mattino, tempo più asciutto poi ma nuvoloso nel corso della giornata. Ci attene una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di variabilità in Liguria per il continuo afflusso di correnti molto umide, cieli infatti in prevalenza nuvolosi con precipitazioni da segnalare nel corso della giornata, soprattutto sui settori centrali a tratti anche su quelli orientali. Tutti i dettagli in merito alla vostra località sull'app di Trevi Meteo. Tutti i dettagli in merito.